posso dire anche delle cose sconvenienti e perciò le regge la liberatoria non te l'ho firmata state già su internet se no ti cito non ho detto i media come si chiama la visione mergibile o periscopio non è accettato la condizione stiamo guidando c'è solo il presidente che si è lamentato se l'ha lamentato perché il caffè è freddo non è accettato la condizione non è accettato la condizione